La Regione Campania, a conferma della strategia di sviluppo integrata del comparto trasporti, punta sulla rilevanza strategica del mare e ripropone con delibera approvata in giunta il piano di mobilità estiva delle vie del mare. I servizi di trasporto marittimo ad alta valenza turistica sono previsti sia sul versante Vesuviano e Flegreo, sia su quello cilentano nei mesi di luglio, agosto e settembre. Lo si legge in una nota del lente guidato da Vincenzo De Luca. Nei prossimi giorni verrà aperta la prima fase che prevede una manifestazione di interesse al mercato, in conformità al principio comunitario della libera prestazione dei servizi nel capotaggio marittimo per verificare la disponibilità degli operatori marittimi. Due primi di luglio, ha detto l'assessore trasporti del comune di Procida, Lucia Mameli, potremo aggiungere una nuova via del mare. È il risultato di un lavoro svolto in collaborazione con le amministrazioni dell'isola d'Ischia e dell'area Flegrea e accolto dalla regione Campania. Si tratta della realizzazione di un circuito lungo la costa Flegrea che consente di accorciare distanze ed incrementare la mobilità marittima in vista dell'aumento dei flussi turistici. Il metro del mare diventa realtà. Siamo soddisfatti di raggiungere questo obiettivo prefissato. Grazie.